Salute e buonveno al mio dimancio medito. Dopo Dio mi voglio leggere con voi. Il tiro e il trattaggio gente e lingua internazionale nel 1900 ed il 1 è il 30 quattro. No. Né solo noi ne potrebbero provare che il 1 loggio della terra appartiene al suo agente, a cui appartiene lì ai malproximi bravoi, ma con travi. E le tue persone che sono diventate, come la religione fermata ai casti, la più grande sia tutto prezise che i bravi appartiene né al suo agente, a cui noi non appartiene. e quindi, perché io posso dire che, per esempio, i grandi russi archivisti Karamsin, Pushkin, Aulermontov non sono pure e più puri russi, ma non sono russi, ma non sono russi. Questo è molto interessante per me, Perché... Il più grande dell'Omaro ancora ha risonato l'aula di noi e dei giovani, e di loro, popoli e nazioni e etni. Io considero la parola in giovani che mi dice un po' la parola. C'è un po' la casa safero con la lumo. Oh, già, ne gravas. La... Puncto è che la Usamenhof la appartiene al Gento anche o passas tra la beletro, la literatura, protio lì. Menzias. Russa in verkisto in cui ne stis... ...pra ave russi. Cioè, Cioè, mi pensas che ogni pova dire tion di molte verkisto, infatti. Anche in allie landoi. E lingue. non... Noi... ...mi... pova smediti... ...pra la... rilato... ...inter... appartiene al Gento e appartiene al lingua e al literatura, al beletro. Noi... Estas... mal facila... temo, set... Cielne, por dimanio, lomi. Estas buona temo ciù. Buone. mi speras che vi... giuis vian... semmenfinon. Mi rividos... nin morgao, ca... nun... restas nur... por diri... antauen... sen fine. ja... cheisle... ...semmenfinitoli... vuoi... hole... ten...